Il sacro. Alcuni studiosi collegano lo sviluppo della società industriale moderna al declino del sacro e di conseguenza della religione. E così? Commento. No, perché anche la società industriale moderna e sacra come tutto l'esistente. Come la religione è un sacro superiore al prima e inferiore al dopo dell'evoluzione collettiva.